Un riconoscimento tardivo ma comunque sentito per Francesco Sciucchi e Antonio Aceto, ex ufficiale medico dell'esercito, il primo, giovane agricoltore e il secondo, entrambi di Chieti giustiziati l'8 novembre del 43 dai tedeschi sulla strada per Bucchianico per la loro militanza partigiana. La loro storia non era molto nota e si è diffusa prevalentemente con il passaparola fino alla commemorazione di questa mattina voluta da Spicigiel e dall'Ampia, la presenza dei sindaci di Chieti e Bucchianico, del presidente di Ampi Chieti Gianluca Antonucci, del presidente della segretaria di Lega Chieti Antonio Dorazio e Rosanna Mattoscio. Ottant'anni sono tanti per un riconoscimento così importante. Sì è vero, noi abbiamo vissuto tutto questo tempo diciamo all'oscuro di tutte le storie di cui siamo venuti a conoscenza adesso e di cui ringraziamo per il riconoscimento avuto perché effettivamente ci fa soltanto piacere anche se noi in realtà eravamo già felici del loro operato perché fieri del loro operato. E questa mattina c'è stata anche una bella commemorazione da parte dell'Ampi, del comune di Bucchianico? Anche del comune di Chieti, infatti stamani c'erano entrambi i sindaci che hanno deposto una corona da loro, addirittura una scolaresca del comune di Bucchianico con il dirigente scolastico, è intervenuto anche uno dei preti cappellani dei camigliani qua di Bucchianico, è stato veramente un riconoscimento sentito da tutti.